Autore dei sovrapposti E va bene, rieccoci qua, ma solo perché siete voi, eh? Allora, visto che siete carichi, divertiamoci un po', su con le mani, forza! E ora all'italiana! Oh, bravi! E fate sentire che il pubblico dei Jamboi non è ignorante! Battete le mani in quarti! In ottavi con l'accento in levare! Terzine di semi-minima! Terzine di croma! Sedicesimi in twist con l'effetto ping-pong! E ora la più difficile! In centoventottesimi! Che spettacolo! Sento che avete anche voglia di cantare! Allora, fate un bel autogrill armonizzato in maggiore! In minore! In minore settima! E settima diminuita! No, veramente! Siete troppo bravi! Incredibile! Allora facciamo così, guardate! Fate quello che volete! Vi lasciamo carta bianca! Su! Stupiteci! Godcina! Allora! 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 Real! Heritoria Poi, larghe Poi, larghe Pulato il Lo so come Helio Lo, Rockstar Grazie a tutti.